Il cammino cristiano non tolera gli arrampicatori. Non è per arrampicarsi, per farsi vedere, per pavoneggiarsi come la vanità, è per seguire Gesù. E a Gesù lo si segue sempre sulla strada del servizio, la testimonianza dell'abbassamento, della condescendenza. E questo ci dà pace e felicità. Sono le parole pronunciate dal Papa durante la messa nella cappella Redemptoris Mater in Vaticano, celebrata in occasione del 25esimo anniversario del Centro Aletti, fondato nel 91 per volere di Giovanni Paolo II, al fine di sostenere l'operato di intellettuali e artisti cristiani dell'Est Europa, volto al dialogo e alla costruzione di ponti. Papa Francesco si è soffermato sul valore della testimonianza, soprattutto quella che conduce alla sofferenza, alla persecuzione, alla minaccia, ripagata sempre dalla benedizione di Dio, come si legge nel brano delle Beatitudini, ma anche quella silenziosa, quotidiana, di tante persone che, pur non versando il sangue, vivono con ammitezza, senza giudicare, donandosi agli altri gratuitamente. La testimonianza cristiana, ha ribadito il pontefice, non è per guadagnare. Se seguo Gesù per guadagnare, seguo il Dio denaro, e sai invece un continuo abbassarsi e svuotarsi, come ha fatto il Signore. Segno evidente della testimonianza è la gioia di sentirsi degni di subire oltraggi per il nome di Gesù, la stessa provata da Pietro e Giovanni, che per lui hanno vissuto l'esperienza del carcere. Questa spiritualità, ha concluso Papa Francesco, non è affatto masochista, come alcuni pensano, ma è la spiritualità del regno di Dio, quel regno dove viene innalzato solo chi si umilia. Grazie.